Non solo emergenza sicurezza, ma battipaglia è anche sporca. Il caso del sottopasso è uno dei tanti e poco lontano da esso c'è un'altra grande criticità. In via Spineta, ad esempio, la situazione è tragica. La spazzatura abbandonata è tantissima tra bottiglie di plastica e di vetro, lattine, carte, cartoni e altri tipi di rifiuto. Non mancano veri e propri cumuli che costituiscono quasi delle microdiscariche. In particolare si vedono buste piene di vestiti, alcuni dei quali sono disseminati in terra, ma anche passeggini e seggiorini per bambini. In ogni caso, quella delle microdiscariche non è l'unica solo emergenza, anzi c'è di peggio. Nella via incriminata corre un canale di scolo che dovrebbe fungere a convogliare le acque piovane e a rilasciarle poi nei tombini. La recente prolungata mancanza di precipitazioni ha fatto sì che lo stesso non avesse utilità, ma ugualmente non viene pulito. La vegetazione ormai è padrone indiscussa ed è facile capire come la pulizia non venga effettuata da mesi. Se così non fosse, le erbacce non sarebbero così alte e di certo gli alberi di fico non avrebbero raggiunto tale dimensione. Il canale è dunque otturato e l'acqua, nonostante il caldo, ristagna il suo interno tra la vegetazione ed altri rifiuti. Tanta la puzza che si respira a causa di ciò, ma l'olezzo non è l'unico problema. L'acqua stagnante attira animali vari, come roditori o rettili, oltre a creare l'abitat ideale per la proliferazione di insetti, quali mosche e zanzare. Insomma, pare che via Spineta sia un mondo a parte, eppure una strada di collegamento importante nella quale transitano anche i mezzi pubblici. La società alba, oltre a indire bandi di concorso, cosa fa? Perché non vede e non agisce? Domande che difficilmente troveranno risposta, ma nel frattempo il battipaiese paga un servizio che nei fatti non viene espletato e non si venga a dire, come è accaduto, che il lavoro è eseguito, perché le segnalazioni dei cittadini sono tante e la realtà dei fatti è quella che si vede nelle immagini.